musica cosa vuol dire? porco olivio ma che cazzo ne sace che? ma porco olivio musici musici No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porco Livio! Porco Livio! Porco Livio, via, via! Porco Livio! 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 Porcolidio Sous-titrage ST' 501 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 Ma in realtà molte donne Dicono che la festa delle donne non va bene Cioè per quale motivo Dovrebbe esserci un giorno dedicato alla festa delle donne Che ricorrenza Beh c'era Tecnicamente La festa delle donne dovrebbe essere sempre Come San Valentino Non è che te smetti di essere donna Non è quello Non dovrebbe essere la festa della donna tutti i giorni Ma si dovrebbe raggiungere uno stato Di parità totale Che sti cazzi della festa della donna Perché la festa dell'uomo è tutti i giorni Ma sono tutte scuse Ma sono tutte scuse capitalistiche Per fare soldi In realtà no Ha un perché storico Però Io ogni volta che vedo associato Qualcosa da acquistare Ci vedo un intento di qualcuno Nel monetizzare Va bene berserk Perché poi in realtà parte magari con un fine Con un nuovo nobile Sono molto contento Va bene Va bene Perché tra l'altro Pico è inciso Io ho visto gente scrivere Anche il giorno della show Nessuno fa gli auguri agli ebrei Bisogna fare gli auguri agli ebrei Ancora non hanno messo nessun gadget su quello C'è sempre tempo Cosa mettiamo? 150 150 150 Quanto ve la sentite? No no 150 Già 150 Non vinciamo Ma aspetta Ma è spento questo Come si accende? L più R Sul controllo Non lo so Così? L Ma vi va bene così o cambio? Che vuol dire? O lo metto qua? No 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 Vi va bene? No Così lo vedi più piccolo Se lo metto da questa Eh beh sì Mettilo da questa parte Lo di più grande Fai il contrario Ok Ok Aspetta Sì ma Il mio acceso No 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 Questo è il problema È sufficiente Basta che me la accendi Ma è quell'uno Ah no Che Esploderà tutto Magiii No pensavo fosse la batteria Ma in post Moriremo tutti magiii Ma io sono il numero 4 Allora tu sei il numero 4 Quindi è giusto Magiii tu sei il 3 Che cazzo Quale sono? Sì io sono il 3 Arianna il 2 Tu sei il 3 Giusto? È più o meno Ecco quella è un'altra di quelle saghe Fantasy Completamente tagliate Quale? Io sono il numero 4 Ah ok Cioè No me lo conosco Cioè praticamente Era questo Questo film In cui c'erano questi tizi Lui era il numero 4 Perché erano numerati Da 1 a X Che Dovevano Dovevano essere uccisi Da un cattivone Per riuscire a A sbloccare Non mi ricordo che cosa Però in teoria Doveva essere una saga Hanno fatto il primo film Hanno fatto cagare Come al solito E poi Non credo abbiano mai Più fatto nulla Ciao Gabri Bella Dani Bella di Padella Io Boh Metal Mario Dai Ok Allora Andiamo a customizzare Come è che si faceva Che è successo È potentissima sta roba Abbiamo Comprato La Moto Yoshi Non lo so No Le sblocche Eh Com'è che si vedeva Il triangolo No Com'era Non mi viene No No Con questo Tu mi sai C'hai seos C'hai più Ok Ok Le moto Non le voglio Perché Tutto pesante Una mezza moto Però va bene Ben bilanciato Ok Let's go Tu sei in alto a destra Ari No Io sono Baby Baby Piccio Però Devo cambiare Ah Giusto Regà Dobbiamo levare Tutte le robe No 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 Devi cliccare Questa da sua La B Con la B Ti cambia Il Il tipo di controller Ok Non si Però dovete levare No No Torna indietro Non avete tolto La guida assistita Io non ho fatto niente Esatto Come si torna indietro Con 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 l'in basso Con l'in basso Ok Allora Come si faceva Allora fate più Deve esserci La freccetta Vuota E il simbolo Così come il primo Ok Eh alivio c'è un problema No Maggi tu qual è No no Ecco No Tu c'hai la freccia gialla E c'hai anche No no Fai anche B Ah ok Eh alivio c'è un problema Che problema c'è Che problema c'è E' sempre stato così Con max altra volta abbiamo messo quello quello qua E la volta prima no Ma c'è ma te l'ho pure chiesto Ma tu dove sei? Ti ho detto me lo sposto Ma è stato in la chat Porco due come fai non vedeci C'è un centimetro Ma poi scusa C'è T'avvicini Vai 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 È un centro qua dentro Sono Maggi c'entrano tutti No devi abbassare E tu vai via avanti Devi avere Devi abbassare la sedia Questa umiltà nell'abbassare la sedia Devi abbassare la sedia Questa? No Era una Maria del Fulmine Non ci sono altri Vabbè Secondo me non c'è senso Perché Ne abbiamo fatte 4 E 4-8 E stai a mettere la decima Sì Secondo me dobbiamo fare Eh Infatti dobbiamo fare quella prima Eh sì Dobbiamo fare questa Dobbiamo fare questa Questa l'avete fatta? Sì 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 Big points signori Bisogna sfruttare l'assenza di Claudio Eh no Vabbè Se pure te ci umili Non abbiamo mai chance di vincere Non c'è una macchina di merda E lasciatevi qualcosa No Eh sì C'è raga Non potete capire Aia Mazza col verde Mi hanno preso Ma qua come funziona No Non lo fare No Non si può andare Niente Oh Le derapate di merda Oh Mortaccio Ma stiamo calmi Per favore Oh ma Questo è impossibile Ma dove Ma dove devi andare Sott'acqua Sott'acqua Pazzesco Vaffanculo È la modalità dei campioni Così dai ragione a Maggi Vincere Ah ok Senza di rapate Lì Vai tranquillo È impossibile Sta culo No Perché non lo devi fare Tutta Ecco Quale è il segreto No Vale male Mazza Solo una Ma che sfiga Ma qua ci si Niente Qua casco Tutti i giri Ovviamente È un cretino Mazza oh Ma hanno bersagliato Cristo Iddio Tutti a me Mi bersagliavano Ma ragazzi è possibile Disastroso No ma sta Ma sta mappa Non ci ho capito Un cazzo Non ci ho capito Niente C'è quella Oh Maggi Ma che hai fatto Ti sei allenato Nella stanza Ho capito Come si dirava C'è quella Shigan È inarrestabile Io non sono abituato A giocare Con uno schermo A quattro Quindi ogni tanto Vedevo gli altri Devi Piano piano Focussarti In modo tale Che non esista Nient'altro Non ci vedo Terzo Il coiore Ma già almeno Giralo verso i dei Quei microfono Sì come Vai vai Proprio così Era proprio quello Che volevo che facessi Ma a me La derapata In realtà Mi fa sbagliare Eh ma Devi sapere La derapata Che succede Di sotto È buona Sapersi Ottimo Direi Oh e basta Con sti cosi Verdi Minchia Eh funghetto Ottavo il funghetto Mortacci Oh È bucato No nel senso Sono finito di sotto Non sapevo che sia Ah questi cosi Deve fanno Ok Che fa? Ah god Godo Cioè tu con la Mazza Godo Tantissimo Oddio ma qua la gente pattira Che succede? Ma i tipi timidi Mi sono apparsi in bocca I tipi timidi Ma sono veramente un coglione Ma ti vogliono bene lo stesso Che fa sta roba Questa è una merda proprio Qua non ce la farà mai Ma c'è le derapate stupide Sto tizio Le derapate stupide Ah calma Livio Se tu fai tutto Quello che devi fare Con calma Ha detto Bowser Ma di chi è Chi è Bowser Qualcuno di voi? No Vabbè Non ci posso credere Sti tipi timidi Mi picchiano tutti Ti giri No no Il burmerang no E non lo prendo Il pezzo di merda Niente Questa curva non la roma Ma non ci credo Ma il primo Mi ha tirato un guscio rossa All'indietro Ah capito Ma sei un criminale E vabbè Dove lo lanci? In avanti Ma te lo tieni Se ti superano Glielo tiri No Vabbè Il computer Cosa ti aspetti E va bene Vabbè Questo a tutti No 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 Cazzo Sono stato Stavo primo Un giro e mezzo Chi è Luigi Io Ah vabbè Ah Luigi Number one Ancora non posso fare L'esultanza Altro altro Che Dibbala Però Bella combattuta Mi piace Mi piace Bravissimo Maestro Eccola Oh Meliodromo Il mio Questo mi sa Che è tosta Questa Ma fa culo Che succede qua No Oddio vai di sotto Incredibile Pazzesco No ma No ma Da dove sono andato Di sotto Non c'è idea Di dove sono andato L'ho visto Anch'io sono andato Di sotto Lì Che è sta valla Oh Vabbè Boom Eh so io Piacere Lo stronzo Bellissimo Sì No Se fai la derapata La prima curva La seconda Vai sempre dritta Che cazzo Esagerato No Calma Livio Non ti far prendere Livio vai dei piano Chi va sano Va piano Va sano Va lontano Vortacci Sua Oh Me la sono tenuta Proprio per te Pezzo di merda No Dilela No Ma che è la monetina Ma fa culizzi di te La monetina Mamma mia Che è salvata Qua E' bello sì Signore e signori Ebbene sì Bravi ragazzi Bravi tutti Questo è un colpo Da maestro E questa è tanta roba ragazzi Questa è tanta roba Schelo Bowser Ci rincontriamo Oh a parte il boost Ma sto coglione Mi ha tirato di tutto Ma che cazzo devo fa Una cosa Ti ho tirato E devo dire che ho goduto tanto Ah no due cose Ti ho tirato E che devo fa Maggi immagina Livio metallo Livio metallo E si vola Io c'ho ancora Affogato nel metallo Però non ci distraiamo Perché non è finita Ragazzi Magari Eh ma non è Esatto Non è finita Non è finita Serve concentrazione Ma come ci fa a fare Sì 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 Devi Allora io la faccio Che parto Vuole dire Quando sta per accendersi La seconda La seconda luce Il salto lo devi Cioè io lo faccio Cioè devi dire assù cose Così Ma c'è se settimo Ma c'è se settimo Ah Godo Bowser di merda Mi ho tutto il cazzo No lovo Levati Eh questo sono io Maggi Questo sono io Io faccio le stronzate Vabbè piano piano Ragazzi piano piano Dov'è Schelo Bowser No Ma c'è sta pitch che c'è una di un buggy cazzo Cioè gli vado addosso O li imbalzo io E' sempre lì E' sempre lì Io devo battere Io devo battere E mi capisce Mamma mia che brutta Quello che ho fatto Ma c'è una di un buggy cazzo Ah ma sono proprio due Due piste diverse no bastardi maledetti appena arrivato primo subito subito il guscio blu ma mi vive godo male ma è molto male settimo lì basta settimo non so se basta settimo vediamo no no malissimo sta partita raga mi dispiace facciamo c'è ti rendi conto che per quanti punti facevo alla fine avevo vinto avevo vinto che non so quanti punti in più fai quanto era te avevo vinto tipo 5 in più mi dispiace ragazzi sono troppo forte ma che culo si chiama bravura bet signori bet è lontano dai cusci verdi lì sono andato dritto è manculato ho capito quando colpire la mappa del pianoforte era lì no invece a me piacciono queste di l'urti questa qua ultima è perfetta bella mappa pulita quel pianoforte se via un cazzo stavano da dritto no si è grazie 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 ho vinto peccato peccato maggio peccato un terzo invece oggi e si va verso la vittoria e muoviamo la prossima sa pure peggio secondo me ma io rimango rimango fedele io confermo la mia coccinella a babbia ci può scegliere il colore di yoshi non lo so non chi mangi tutti non ne sono sicuro ma ora sono stato io che stai a fare ormai non posso clicca chiudi clicca chiudi le squadre vince non si cambia dai no non andare di raddoppio su di me non lo fare non lo fare busco ma piano piano busco piano piano visto man mano che ci gioco capisco come fa le derapate piano piano beh devo dire che si è migliorato parecchio ho capito come si fanno le torneo fulmine torneo fulmine quello che voleva fare maggio pista tic tac tu tu birin topi no non l'abbiamo già fatto l'abbiamo già fatta vi sarco valeno siamo variati non i decimi undicesimi e dodicesimi questo sembra difficile fatti guidare dal cuore maggio ma come fanno gli altri a fare le curve così bene oddio ma sta cosa è impossibile sei apparsa davanti a me quando dirai qualcosa mamma mia che mira chiamatemi il cecchino oddio l'ho preso in pieno oh la banana oh che c**o nooo doppio colpo avanti e indietro non lo devo fidare da me stesso vabbè nooo ah questo è grave tutto culo qua nooo dai ma come la bomba nooo sono stato colpito mentre stavo operato una lacrima sul viso una lacrima sul viso una lacrima sul viso 12 volte l'ultimo mezzo giro chiodi bravo però eh attento ti sto a nosa al culo sento un po' di svella di mangi da dietro abitante chi è abitante un tizio a caso che pali ma secondo dovevi arrivare incredibile la minchiottata si si sono stato lì secondo terzo secondo terzo secondo terzo ovviamente gli ultimi due curve bella questa bella questa ma guarda cioè mi superano ma come è possibile oddio nooo eh lo sapevo no no si si eh vabbè doveva succedere bello sono finito di sotto non è possibile non è possibile no che merda hanno messo la roba in mezzo alla all'erba per non fatti targliare pure pure a te è successo sono finito in mezzo alla minchiera bastardi faccio i vostri quando mi dite eh sti sti compa di merda lì come si chiamano bumba niente questa abbiamo l'abbonamento ormai ma perché non arrivo c'è spandata la brina di merda sti gente sfreccia brutto oh questa aia aia e vabbè qualsiasi cosa mi ha preso nooo 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 oddio perché sono volato cos'è un geyser nooo finalmente non cadiamo abbiamo fatta è potentissimo è potentissimo il maestro si sta evolvendo come cristiano ronaldo arcampone ho fatto tutto la partita prima e seconda e poi all'ultimo mi ha colpito qualsiasi cosa ma io c'ho i problemi nella in quella doppia curva a gomito mamma mia ma oggi lo senti questo il vulcano brontolone è proprio la tua mappa questa è il brontolone devo capirci speriamo che non lo capisci allora ah ma qua eh esatto mi sbaglio queste scelte mi fanno sbagliare scelgo sempre male ma non ci posso credere ma guarda che è successo dai primo settimo ma come ho visto Maggi fare un botto ma dai ma ottavo mi dà il boomerang che ci devo fare quel boomerang ma perché devo essere stato io sempre ecco guarda cosa sta succedendo no stupida pianta mi sono auto colpito mi dà il cricket mi dà il cricket no è bomba vabbè ovviamente poi ti capitano i circuiti che non capisci eh niente no no questo non è il circuito mio questo cazzo di circuito posso venire al posto lì che ci vedo come vuoi vuoi venire qua no zero busco sto cazzo di circuito non l'ho capito dai non l'ho capito il circuito ma come il brontolone c'è l'ultimo ma non è l'ultimo no no c'è ancora l'ultimo c'è l'ultimo eh otto punti non sono così tanti eh sai i più ultimi best no non so quanto quanto quanti posizioni il primo è da 15 eh eh sarà 15 12 10 8 oddio ah vedi c'ha ragione c'era ah c'è di nuovo a vista arcobalene mamma mia prepariamoci qua arriviamo tutti ultimi eh in realtà ti conviene a te lì ah ah perché sono diverse pister ciao andrea bella andrea ciao andrea terzo vaga che faccio se entro nelle stelline sembra che vada bene lo dico per ora non sembra così difficile chi è che mi dira le banane c'era un pallotto ci sono i cagnacci che ti mangi ma vaffanculo che è che ha fatto ah cosa mi ha colpito una linea una linea eh ma so che questa cosa non potrà durare per sempre eh lo sapevo non potrà durare per sempre peccato peccato ero primo eh mi sono fregato all'ultimo eh questa è un'altra eh questa magia è un'altra esatto ma in realtà la cosa che fa rosicare guarda il maledetto abitante non riesco a capire non riesco a capire quale se c'è dopo un po' mi confondo e vado a male però si datemi la macchinina automatica c'hai ragione cioè guarda sto abitante di merda un punto attaccato al culo personaggio NPC inutile no la moto non lo so cioè io gioco a Mario Kart da quando so piccolo io ho avuto il primo Mario Kart per DS ok e poi ho giocato da tutti i Mario Kart però mi dà fastidio questa cosa che non vedo non capisco ah ma è finito ne abbiamo fatte quattro ah ma allora gustiamo c'era questa previazione basta è finito niente c'è niente c'è la coppa guarda c'hai il trofeo c'hai trofeo fulmine vedi ufficialmente campione del torneo fulmine c'è c'è cose c'è mister nuvola sei come Nami hai conquistato la nuvoletta il torneo fulmine è il mio l'uomo del torneo fulmine cosa ci può essere di più difficile di questo del torneo fulmine no ce ne sono due ancora dopo quindi ci sono altri due di difficoltà ma guarda ti dico quell'arcobaleno non era neanche così no quell'altro arcobaleno è molto peggio sì no ma secondo me la io quella che ho trovato più più caotica è stata quella della della scorsa ok raga non l'ho mai guidata la Vespa vabbè tanto stasera è for fun siamo andati a casa di Claudio però l'altro Claudio e una sera abbiamo fatto Mario Kart e io ero attaccata ero sotto lo schermo praticamente che vedevo allora raga solo per voi prendo la moto ma quale moto no no lo so che devo guardare le statistiche io non mi fido mai della moto infatti io ho una specie di moto ma comunque piano piano busco lo piano piano sto ma è importante ragazzi come fa le derapate poi lì ma han culato quel circuito per quel circuito ma ha poco un culato no non ci ricordi di me che guarda è un attimo che si perde qua all in no siete pazzi guardate che Maggi stanna bene close close è carico è carico ho sti dita muscolose un power up incredibile vedi è così che il gambling vi porta alla sconfitta vabbè Gaccio ma la prima volta quello che devo e poi puntate tutto su di lui mi sento sento proprio il mio morricone qua dio c'è è fuori uno te sei cagato sotto perché pure io me so cagato sotto e questo è il problema di Maggi quando ascolta la chat l'hai capito pure te adesso sei stato così colpito che non l'hai più presa no no c'è la moto bravo bravo mamma mia non si capisce un cazzo eh vabbè ah però tutto bene ok piano 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 c'è andrà fuori così ma sono scegli vabbè un pochino dai eh questa questa era chiamata tante banane ci sono perché si sono proprio io oddio bowser ti prego canna ma basta ma quante volte sono stato colpito non vedo niente ma che è oh non ci posso verso oh ah no non era l'ultimo giuro no ah coglione ho detto oddio se ho vinto così ho po' rubato oddio chi è chi è che ha attivato la canzoncina malevica no io ti consiglio ho frenato per non per non starti vicino appestato di merda eh questo stupido l'ipio non è finita finché non è finita non l'hai messo dentro fin quando eh questa l'ho proprio mirata e moccasco pure no la guerra vai 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 ma luigi number one è l'esultanza pre troppo precoce però sento che sono sempre in partita la cosa mi piace è la moto raga vi prego rifatemela fare toglietemi sta moto vabbè ma vedi quattro gare come va poi magari se dopo quattro gare di stato il cazzo la prossima cosa è la gioia io ho detto di non triplicare su di me però io ho provato una volta ho detto no vabbè non fa per me oddio ecco questa mi sembra veramente tosta questo è the ultimate mister cobaleno ah su questo userò la tattica tartaruga oh e prima becchiamo lo strozzo ma si prena devo andare tranquillo tranquillo per la mia strada becchiamo quello strozzo che sta avanti non si fanno terapate ahia ma non c'era prima è comparso adesso è arrivato mi sto andando no 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 siete ingiusti siete ingiusti non mi potete tirare il guscio blu così dai ho fatto un giro e mezzo perfetto vabbè becca al primo il guscio blu si ma in altre cose in altre viste me la collo sono riuscito a essere primo qua oh 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 Grazie a tutti. No, eh? No, bastardo! No, sono la seconda no, ragazzi. Non ci posso credere come non ho vinto questa gara. Non ci posso credere. Madonna, sto riuscicando tantissimo. Ahia, maggi, eh? Ti vedo. Mi sta cobalendo. Pensavo fosse più difficile, sinceramente. Raga, mai più. Ragazzi, io mi sono lanciato nelle cose, nelle... Qua è difficile da riprendere. Adesso bisogna fare risultato, raga. Risultato, top 5. Eh, sì, sì. Oh, One Piece. Pistapolare. Di colore diverso. Benvenuti a Droom, ragazzi. Se abbiamo a Bowser, è veramente il mio nemico personale. Io lo odio a morte. Guarda, sto pezzo di merda che si è rubavuto gli oggetti. Sì, vabbè. Chi va a colpire un treno? Bowser è fortissimo. Bowser è fortissimo. Sì, sì, la stazza determina quanto meno. Cosa di merda. Ci rincontriamo. Ma mi ha inculato l'oggetto. Ma mi ha inculato l'oggetto Boo. Ma che cazzo è? Quella era palesimente una capra di Love and Time. È la capra, sì. Sto per morire. Sto per morire. Ok, meglio di così non potevo fare. Oh. Oh, Dio. Si decide tutto nell'ultima. Madonna mia, ma io non posso stare così. in tre a pari punti. No, no, è solo i circuiti. Alcuni circuiti li devo capire. Piano, piano. Piano, piano, siamo alla terza partita. Vabbè, ma questa è tutta la prima volta che li fai, i circuiti. Piano, piano, piano. Ah, sì. Che è? Che è? Dov'è? Che è? È il caricamento. Bello! Sempre dentro i cinz, Maggi. Il circuito di Hyrule. Guarda, qua c'è il Dio del caos là dentro, eh. Ah, Zelda. Qua c'è l'Ocarina devi prendere, Maggi. Eh, vedi? Già siamo partiti male, ragazzi, qua. Ma qua ci stanno i dobloni. Mi pare giusto. Oh, che cazzo è? Stupida spada. Uhuh, liscio. Non ci va solo. Non ci va solo. Cosa vuoi fare con quella banana? Solo un po' più in là. Che ansia. Nooooooo. Sono un coglione. Questo è quasi la clipa, raga. È lo strozzo. Non lì, ho un lì, ho un lì perché ha sculato che quando tirano il buscio lui fa la cazzata. non ci va solo quello che fa possibile. Non lo somm我說 del buscio. Non è perché saluera. È così andato. È così andato. A presto. ah non c'è il coso che ti fa salire sopra mortacci c'è sempre prego fai che ho preso lui no leva di buzzer no vabbè si 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 la strata la strata questa è un po' rubata me lo so ho tenuto un quarto d'ora sto cuscio rosso appena ho visto 4-5 ho schiacciato il bottone rosso ci sta per un punto vabbè eh non si può vincere sempre ragazzi peccato perché qua ho giocato male a una certa ho giocato male e quanti ne vuoi 27 ma che ti è da fastidio cioè che ce l'hai a sinistra e a destra a me mi cambia niente vergognoso facciamone un altro si si non è raccolto un nuovo pezzo e pressione il tuo dico dai ma bisogna vedere se si se ci sono altre piste cose da sbloccare beh che è sta roba soldi non lo so beh chi se ne frega no ma in realtà mancano le ultime gare quindi salire tutta mo dai ho gusti tutta come si toglie melt le ultime quattro dovete fare come si toglie sta roba melt premi i tasti Livio provati i tasti a casa ho premuto ho premuto ecco no così ho levato tutto no raga e vabbè dai c'è la stanna colla così se vedevo sto intero mezzo va bene così ma che cos'è questa c'è un pirulino di legno guarda che hai visto che flexa Donkey Kong quando salta sentite con questa bella musichetta è ripartito così bene si ma prendi il mio vabbè tu dove stavi in basso adesso vabbè vabbè si è pronta va a sparare Maggi cosa vuoi Maggi sei dentro a un'illusione di Itachi Maggi guarda quanti programmi support Maggi Yoko Poco Maggi Yoko 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 Yasushi e Bisawa vabbè ma prima poi facciamo tutte dai su tranquilli quanto ho capito ci sono altre 4 è l'ultimo da 4 da fare l'ultimo circuito non ho mai fatto Sound support Mahito Yoko e Takahiro Guatanambo quelli gioi in due Takeshi Kiriyama Takaya Takaji ma perché non ti piace poi c'è Leslie Swan incredibile Leslie Swan Camillo Camillo Alba Navarro penso Conte di Cavour e Jeffrey Storm c'è Fabrizio Cattaneo però attenzione Fabrizio Cattaneo e Ambra Ambra Gostoli Maggi non hai il microfono addosso non si segue così si segue se qualcuno sapesse come fare io lo farei quanta bizzarra vigola shop io faremi i tasti dietro Maggi ho prenduto qualsiasi cosa Matteo Marras e quali si chiama Daniele Alibrandi Matteo Marras è la versione spagnola di Isale di Daire Van Dainamco Masayoshi Eichi Giungimori si Lion oh comunque ci ha lavorato un sacco di gente un sacco di gente vedi tu stai qua a far giudino per si gana gazzata oddio oddio finito 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 credo ma partono tutti i loghi prima tutti i nomi poi tutti i loghi è uno stato ci ha lavorato sta cosa grazie è finita è finita grazie bellissimo rivediamo no ora il gioco è finito vai gran premio ok sei tu 50 no mo mi devo risettare le mie cose pg è la nuova macchina dove è la mia la mia macchinina preferitina eccola muoverò le loro rotelle rosse e poi avevo questo squadra che quasi vince non si cambia oh la campana vai la campana personalizzato no big blue il circuito campana cupa city guarda quanto sono tecnologizzati a cupa city sei un poveraccio maggi rispetto ai cupa no ecco sbagliato no ti ho dato il joystick buono vabbè ho capito ma ci ho giocato io prima e non l'hai agganciato bene non l'hai agganciato bene allora che vuol dire sganciato è agganciato ma si sgancia eh no ecco si sgancia lo stesso vuoi ridarlo a me ridarlo a me se vuoi ridarlo tu la testina ce l'avevi ah così bravo bravo no perché due ce l'hanno così e due ce l'hanno con là perché secondo me sono basta che mi dite che devo fa prendi questo dobbiamo rifà tutto lo so abbiamo fatto una cosa un po' inutile perché vabbè però vabbè meno Livio fa qualcosa qua dai sì che a sto punto mi riprende per mio però ormai ho settato tutto no posizione da battaglia e si vola quindi adesso io sono in alta sinistra si sei il primo ma che alzerei la difficoltà già così è difficile ma non arriviamo mai primi io sono arrivato primo campione del torneo fulmine voglio ricordare piripipipi poi guarda che che cazzo di macchietta c'hai veramente fastidiosissima mazza fa cagare prendo no questi gusci verdi di merda aia no t'ho ripreso? no sarebbe stato molto bello proprio accarizzata proprio che cazzo di macchietta che cazzo di macchietta cazzo di macchietta che cazzo di macchietta mi Mamma mia che doppietta No Ah si ok Prenditi lui Ah 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 sbagliato Oltre sta guida Non faccio se mi sa Sto da guida E non mi dici E' un'altra cosa Sì, 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 due pallotti di fila Va bene, va bene Per poco, per poco ragazzi, per poco Abbiamo preso un bel vantaggio ragazzi, eh Ero quasi primo Quasi primo Io primo giro e mezzo l'ho fatto lì Stavo nella prima posizione, poi ho preso un guscio verde da sesto E da lì la debacle Due pallottoli in fila sono arrivati a un certo punto Cioè, gli avevo lanciato un guscio rosso Però si è frantumato prima tipo su una moneta Non ho ben capito Bella questa Bella Toy Story La strada del fiocco Bellissima Il fiocco rosa Eh sì Nooo Terribile, no Noo, terribile, no Non prendere il muro Fratellì Nooo, terribile Ah, questa è buona No Oh mio, che devi fare? Sì? Nooo Ma com'è possibile? No No, i colori, no Comunque penso che il fiore sia l'oggetto più negativo del gioco Sì Ma è proprio negativo Perché? Perché sei costretto a tirarlo E ti impedisce di fare altro nel frattempo Non c'è un foglione Ma non è vero Io ci ho preso un bel po' di gente o quel posto Eh, sono stupido E dai Ma chi è che Ma chi è che mi ha tirato la bomba in faccia? Questo è solo un computer può riuscire a fare sta cosa Un essere umano è impossibile Voleva scappare Nooo Come dire Ho finito col botto proprio Male male questa però Però non così male, dai Eh, tutti attaccati, eh E' quell'undicesimo posto della prima Va bene lo stesso Cioè io ero primo Qualcuno mi ha tirato una bomba di quelle che Anch'io sono stato primo No, però un contento è tirato Il guscio blu 12 muori Invece mi hanno tirato la bomba con la nera Pazzesco Ma dai, ma di solito te la tirano indietro Cioè tu dove la tiri la bomba nera? Indietro avanti Avanti Ma sei dei criminali Eh, a quanto pare però ti ha fatto perdere Quindi ha fatto perdere Ma manischi che ti prendi da solo Eh Questa l'ho già vista però No Strozo Ora guarda ti giuro ti miro proprio Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ah, voglio Ha, ha Ha, ha Desannato proprio a tos Ha, ha, ha Shireen Cacchioin Ahia Ah, qua si va troppo Qua si va più lento Beh, bravo Grazie maggio Ci viene sempre aggiornato Annuncio 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 Vobbis Magno un gabion Son per coiore Ragazzi Nooo C'avevo il guscio Il fungo d'oro Mortacci Di chiunque abbia sparato sto coso Ma questo sta sempre questi affari Ma ce l'ha Tu morì Ma domApponte L'ho Luca Assized perché oddio ma è apparso davanti la metro ma non c'era lì ma c'è peccato per un per un pelo ma superato desi per un pelo e vedi vedi che cominciamo prima un primo 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 podio questa è la seconda terza possibile recuperarlo era ultima dovrebbero fare un monumento con le mie mani big blue capirà buona alla fine ma io ormai sto adottando la tecnica di non derapare ci vuole tanto imparare a derapare altrettanto imparare c'è rallento pur di non derapare che ovviamente a livelli massimi non funziona come tecnica però secondo me qua sta dando i suoi frutti ma come perché non l'ho presa oh ma come fattano me caffi negli mezza io oh ma come fattano me caffi negli mezza io no la stella dovevo tanto schiacciare mi sento come se mi stessero picchiando bella migra bella migra bella migra questa merda sbagliata california che primo e vincitore anche del torneo campanella torneo campanella il signor campanella va bene partiti da un po male però poi la scalata al potere è io sono come l'empoli sono quelle squadre con tutti i giovani talenti poi crescono i talenti io sono la juventus in questo momento e mettiamo coso si mario parti no come si fa qua così volevo vedere il mio trofeo no non mi interessa mamma mia che rosicolo che rosicolo anzi ne ho vinta pure uno guarda le altre tre le ha vinte no 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 raga è proprio oggi proprio male 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 malissimo non vedevo l'ora di giocare a mario parti ma male malissimo male malissimo male malissimo però mi sei piaciuto perché all'inizio mi hai fatto un po cagare sotto squadra che non t'aspetti prima o poi quella che crescerà da che arrivavo sempre ultimo è il bologna piano piano da che non sto crescendo giovani da lei poi ferguson a shibar quelli crescono tutti dopo eh tu c'hai tipo Pogba all'inizio c'ho un ferguson che te sai chi è del bologna c'ho un ferguson zirzi ai primi anni piano 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 ok vai vai salta salta bravo alex guillo ma quando vai va luigi number one vai 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 vedi fantasmino a bu in onore di majin bu anche se non è scritto così però ma ci stanno altri giochi o ancora vabbè però fai la terza che ne manca una di quelle che non abbiamo fatto si fai qualcosa di nuovo non quello con i dati qual è? che devi fare? quello con i dati è quello lì ma quello con i dati ce l'abbiamo già fatto cos'è? eh disintegrata così aveva una vita una famiglia eh che fai non c'entri? che fai c'entri che cosa misteriosa vai entra ma questo è un cretino oh baseball lo sai? baseball ah si è vero vabbè quindi no si muove solo lui no saltare mi puoi saltare oh mi hai scoperto manca l'ultima mappa di quello che dai vabbè la prossima volta dai quindi baseball ma è gioco singolo blocchi puzzle sale e giocatta però ce l'ho capito qui sono mini giochi singoli però qua è due contro due ma no fai il laloa fai i dati a sto punto aspetta aspetta ma vediamo tutte le cose ci sta un sacco di roba la puoi andare anche dietro ah questo qua questo qua è carino questo qua con questi gioco offline vai vai grazie a punti 16 questo qua con i pannelli mi vai il coso il decathlon decathlon lì mi piace mini giocathlon va bene vai 5 mini giochi non so cosa sia però sembra figo e sono 5 mini giochi alla fine chi fa i risultati migliori vince ok guarda guarda guardalo il colosseo più alto in ciascuno quale trofeo scegli dai fai il primo trofeo toglie vai e non lo so forza rotolabile no rotolabarile forse aspetta 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 che vuoi devi muovere vai beh vai no prendimi questi ponimi tutti i tasti devi dare l'occhio e lassù si sto giocando sto cercando di capire come funziona vabbè ok ma è complicatissimo 3 2 1 via ha statemi dietro mezze calzette oddio se no ho superato all'ultimo no vabbè vabbè stiamo tutti lì dai ok vedi da ti dice quanto già diciamo la corsa stai facendo ah bellissimo questo eh allora è bello si questo devi fargli fare tutti i lati chi è meno? cosa hai premuto per attivarlo? la gira la piazza devi tenere la piedi su e poi fai apri su ah sarei bellissimo ok 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 eh questo è master chef ma no la cucina no la cucina eh la cucina dura via via no no male let's go guys let's go mancava una no no non posso chi è chi è l'ultimo ammaledetto oh ti manca una faccia meno male no niente si perché c'è il tempo con la lutta rosa è arrivato a una faccia mannaggia mio bene 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 cazzo un'ora non avevo fatto 800 volte molto molto bene sono comunque soddisfatta ho fatto schifo più zero 49 sto comunque ultimo what se ti prendono sei forte si cazzo un'ora cazzo un'ora cazzo un'ora cazzo un'ora in Ma guarda che sei tu che mi stai davanti è Ma luigi corri no cosciotto via come ti desidero Corri o luigi Corri oddio non ce la fa più corri ma luigi Beh era un po' un gioco del merda questo che posso È un po' un po' Oddio Una donna Costissimo Tipo Un po' strana questa Vai Chi ha toccato questa Io no Non lo so che devo fare Ripremi più No mi sto muovendo io Ah devi andare su Mario Party Mario Party Guarda di quanto Colone Ancora prima La canna è irrecuperabile Eh quella La carne lì Tieni duro fino alla fine Ah ti caricano Ma Sei un milo Ma te sei nato per cagare il cazzo Ragazzi Non sono bravo a questi giochi Ve lo dico Oddio Pensavo Era già finito Ma il livio cosa Lo che ho fatto adesso Eh vabbè Ma hanno preso una volta L'hanno preso tre volte Vabbè lì sono rinato sul quello Un po' devo fare niente Football americana Che è territorio mio Non c'è l'annuncettino Eh sì perché io ero secondo Ma ho fatto male Chi ha vinto questa Ariano Io Ah tu Eh vince Ari Vince Ari Sì la La vendetta del caduto Comunque Possiamo dirlo Eh Lo diciamo Lo stereotipo Definitivo La donna in cucina Ho vinto quasi su tutti i mini giochi Mi dispiare Ma dove ho dato una pista Gli altri alla cucina Una maestra Guarda 23 Si vede 560 minuti Che sta a cucinaria A cucinare Va bene E ragazzi quando qualcuno è portato per qualcosa Non si può fare Mini giochi Vogliamo volete fare gli altri? Vai 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 Secondo un round Vai 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 Sempre Decathlon Quell'altro Sono tre Sono tre Ok Oggi giornata Decathlon Brava Pure quando cucina la carne adesso Esatto Ma la cosa che mi fa ridere È che la carne di solito la cucina lui Quindi Aspetta la carne in cui si lavano i piatti Creve Certo Raggiunge il fiore Che fiore Ah c'è un fiore C'è un fiore alla fine Maggi pompa pompa Eh guardi Pompare Ma io son lento No ok Son lento io Via Ho provato a usare una tecnica Per fare così però non ha funzionato Let's fucking go Pure il pollice verde Bravo pure da annaffiare Ah questo Questo anche può essere per te Prendere i popcorn E devi dai massi Ok Ok Eh però questo mi sembra Cioè mi sembrano proprio delle sfide improntate per le donne Oh no eh Francesco come prendere i pop corn è il massimo guardalo a Luigi evitatemi Mario Kart usa il laccetto no che devi premere ah ok devi premere quello dietro ah questo qua grazie Ale bentornato ciao Ale a a a a eh Francesco stanna bene a questo oh no la roba dove si guida io non sono capace io non so guidare no devi muoverla no mi sento muoverla no la roba dove si guida devo fare un milione di punti qui però non credo via niente raga questo male male devo fare un milione di punti devo fare un milione di punti adesso non è più facile perché non c'è niente a tirare un po' i coglioni cazzo eh vabbè non potevo fare di più oh zio mamma mia potevo continuare ah ma non è finita io pure pensavo fosse finita che tocca va ah devi buttarle fuori dal barattolo ok va bene eh Francesco è bravissimo ad aprire i barattoli e scendi e scendi perché non scendi perché non scendi sono incastrate tipo il signor Mars quello è il pezzo di carne di prima sì esatto metterlo in mezzo vai 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 un'antichietta un cicinin oh mamma mia questa è la cacca quando va a fa la cacca fai così eh eh purtroppo è andata così oh no vabbè secondo un onesto secondo posto brava Luigi ma guardalo quant'è felice ma guarda i punti che facciamo eh possiamo no no che giochiamo di nuovo no no vai terzo ok 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 ah andiamo a Namek qua c'è anche ma è uguale a quell'altro un gioco misterioso qua no hai rimesso il no sono gli stessi come si fa come si fa vabbè mettiti pronto lì ok eeeh ma vediamo invece il quarto che cos'è su tutti i giochi misteri no il personalizzato che te li scegli te ah ok penso ah beh a destra che cos'è questo vai questo qua praticamente ci stanno i mini giochi se è quello che mi ricordo io tu giochi e poi se vinci prendi un tassello ok eeeh sai come si gioca? devo spiegare le regole si vai ogni tu inizia ogni gioco ma solo uno di essi inizia il gioco ah vedi se metti due pannelli tuoi in mezzo c'è quello di un altro lo fai diventare tuo se metti due pannelli vabbè vediamo vabbè ti devi porre il problema solo se vinci il minigioco bella questa ah qua devi devi riuscire ad arrivare alla alla vai vai via 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 mi pongo il problema eh no il primo è di poterlo dove ti pare vi dico canami un cazzo grazie ma scegli uno dei quattro posti metti il tuo pannello grazie la cuba a apple a cura sempre che risolto questo non si muove è gg è stata una sega 6 siete verdi uguali raga mi confondete il mio gioco ma sono di loro da scelta e quindi magica sempre 6 quale si è andata lo sapevo lo sapevo non vinco mai tipo per te sfida all'ultimo sangue lì per chi mette il pannello ma io devo mettere per forza di questi punti e quindi nel senso quando tu se tu adesso ne metti uno da una parte poi vincite e lo metti anche dalla parte opposta mangi quello di livio e non posso metterlo qua no lo di mettere a contatto con quello attuale che cazzo di colori ma fateli diversi no questo è questo è un gioco veramente brutto se posso vabbè perché è una gara un po sì 3 2 1 via levati dai no levati tu devi curvare così dai non posso se io metto sopra se io metto qui non glielo frego non credo c'è lo dovessi permettere dall'altra parte e fregaglia scusa se io lo metto a sinistra poi lui poi ne può fregare due non lo so questo potresti potresti non non fartelo più fregare o potrebbero fregartene due questo è un mistero che non sappiamo perché è un po difficile non solo lo metto ah che culo mi sembra strano non lo puoi mettere come le palle cacchio se no te lo inculavo e se avessi saputo no perché se non cliccare quello quello spazio non c'è il più uno grazie gli regali fuga dai tirabugni ah è quello di prima credibile stanno a ricapita tutti gli stessi mi sono levato così sei contento va bene no no questo questo non va bene c'è bastardo tutti tutti quei oh primo ma come primo ma primo come? vogliamo il bar in un attimo un'arma vicidiale ma che vuol dire lì era dietro di noi come è possibile? scambio scambio vibrapesca vibrapesca ma non ti vergogni te stesso? nooo aspetta così ti muovi come cerco non ho capito come cerco no è che mi sa che ti vibra ah ti vibra da lui oddio non ho capito veramente niente e se vibra devi dire su vabbè via che cazzo è successo? fine ah e chi l'ha cattolato più lungo? oh nooo nooo vabbè ma come fai a saperlo chi è il più lungo? è a bucio de culo forse più vibra è più grosso ah ok belli questi giochi di merda e vabbè che non sappiamo come funziona io lo metterei ah ah perchè così qua se dimmi è più povero ah questo mi ricordo aggrappa e tira aspetta fammi ricordare allora aspetta ah devi stare così ok ok dai posto a posto vai più vibra più grosso ho capito però devi sentire è il mio vibrava un pochino ma non così tanto 3 2 1 via alcolino è il mio padre nessuno è l'abbarò è lì è il mio padre capire il mondo ok adesso vedremo lo sveleremo l'arcano anche il più si va ho capito ma metà cosa di edb pregate non ne vinca d'altra questo è quello delle frittelle e devi prendere la frittelle tra di mette nella cosa prende solo le frittelle che stanno in alto vabbè ragazzi ho conquistato metà del campo ci sta che ho preso il più uno come 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 ruba dal piatto francesco nessuno proprio il ruba frittelle guarda l'ova luigi divertiti adesso perché il prossimo te sei in cula no solo se sei vincitente cos'è vagonata di toad ok a oddio oddio come fai aumentare e poi alla fine che succede e poi finisce il tempo ok finisce il tempo di quantità non ho chiesto e finisce in modo che visce in modo naturale mai lo sapevo lo sapevo che ho detto abbiamo messo il stesso numero ma perché lì vi è arrivato primo a fari merito ecco su questo si gioca la partita ragazzi e ho capito già ho perso un tiro e da adesso dove vincere e si sbaccia impossibile vincere andare dove lo metto a qui c'è pure il più uno grazie si limiterà a vincere ma io voglio completarlo tutto penso sia abbastanza uguale ma perché stiamo giocando ancora la partita perfetta via cazzo ha fatto rimariglio che palle accidenti c'è un secondo non è vero non vado a farlo veloce eh devi perdere che cazzo no quanti ne fa livio due sono ineluttabile ma è tutto perché hai vinto il primo di un decimo di secondo beh no uno l'ha vinto senza vincerlo no no dico il primo round l'ha vinto con decime seconde quindi poi ho cercato di accelerare per recuperare i punti sottrai un pannello a chi lo sottrai ma vogliamo dire che c'è ah posso sottrare un pannello a tutti più uno ah peccato vedi vabbè ah devo uscire io che voglio fare si non fare un piano se fosse successivo vai maggio dai maggio dai quella prova ma abbiamo già giocato Perfetto Tutto perfetto Va bene ho capito Per quello volevo fare una prova Va bene E tiriamo sto cazzo di vado No è che ho ragionato con la mira invertita Tutto là Prima di Sontrae un pannello Non posso Si può anche lui È in che una vergogna Ce l'ho mandato niente Una vergogna Una vergogna Tre dati di filo ho perso Dopo giochiamo ancora Lotta di superficie Scegli l'aria più grande Ah ok Ah ok Va bene È carino carino Via No effettivamente era rosso Eh no oramai l'ha preso lui Devi prendere un altro Quello ho già preso non lo puoi prendere Quello ho già preso non lo puoi prendere No non me l'ha fatto cliccare Eh vabbè Non l'ho cliccare Non so perché Oddio avrei preso tre punti In realtà No ho sbagliato Eh vabbè È andata così No come un quarto round Una volta perché ho vinto Mi dà il quarto round Ma vaffanculo Gioco di merda Ci posso credere Questo a cinque round Questo gioco Va vaffanculo A coglione A coglione mettitelo in culo sto dito La vittoria di birro Ma vaffanculo Tanto poi te lo rimangio Dopo le round ho vinto Questa volta ne facciamo cinque Mai fatti cinque round in un gioco Eh scelgo un pannello Ma abbia al culo Eh vai Scegli cento Riccardo Più uno Godo Bravo Non li puoi prendere questi No no Sì infatti Me la sto facendo sotto Aspetto uno switch Uno switch cosi Usa il laccetto in verticale Ti devi mettere il laccetto Ah è che cosa viva l'allontro Peccato potevo fare la partita perfetta Però Perché lo tira E' che cosa viva l'allontro Fenomenale Che sfiga Ho perso quel tiro di dato Ma se mi dire Che questa partita è sfiga Veramente siete vergognosi Guarda che se vincevo il tiro di dato E ti rubavo il Se Gesù scende Eh no no Dammi tre giochi Vinti in più Sì Tre giochi Eh sì Vabbè Lascio quello Vabbè ci può stare Però c'è Io tre giochi Ho tirato il dato Non ho vinto manco uno Non vi sento Aspetta Che è sta roba Ah devi riconoscere Ah devi riconoscere Quale cosa succede Quale vibra di più No è la vibrazione Differente Ok 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 E poi come si sceglie E poi devi scegliere Ti fa sentire tre tizi Con tre vibrazioni differenti E poi ti chiedi Ah ok 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 All right All right He gots Woohoo Ho messi così Non è detto Eh questo Sembra facile Ok Vi rimangio un po' Ho detto Guarda Bastardi No Ok abbiamo sbagliato tutti Abbiamo sbagliato tutti Che bellissima Oddio ma è uguale Vabbè vaffanculo Io l'ho detto qua Magari c'è la giulina Eh che c'è Eh se no Ho dovuto cliccare in mezzo Ah questi sono tre round eh Non so cinque questi Eh Arianna è troppo Eh Arianna al tiro del dado è troppo forte Complimenti per la vittoria Arianna Ed ecco che c'è un sei Incredibile guarda Maggi non Maggi tira solo sei coi dati Cioè Cioè non c'è Tu non c'hai idea Arianna Cioè Hai l'onore di mettere l'ultimo Cioè vai il dado di buche Tre Questo è Camillo Benso con te i cavoli E ti fa solo dieci Nove se proprio Vetti questa pietra miliare in mezzo Quando si va a discutere al tavolo mondiale C'è anche la palla osta Il ducato da osta Mi sono smisieto Al tavolo dei grandi Anche io Come Camillo Benso Ottima scelta Oddio chi ha vinto raga Io Davvero Grazie Grazie Che bestia Grazie Questo amore Questo è davvero Amore No vai a tornare Si torna a piazza party Vediamo che altro c'è Qua che fanno Cioè che vuol dire Devi qualche pulsanti Eh si Questo è No Questo aria Ti prego No Questo aria Troppo complicato Questo è bellissimo Il dance day Vai tutta a sinistra E' pericoloso Questo che è Questo che fa Eh si vede i percorsi Del fiume Ah però questo è coppia No E vabbè dai No che incoppia No è bet No no che due contro Io un po' gli alleati Quanto dura quello lì E' lungo quello lì E anche lei aveva una famiglia Una storia Una storia da raccontare Ma niente Esplosa così Andiamo a vedere Che c'è qua sotto Ma non devono Pugna pure non sotto Quello del labirinto Con i minigiochi E' lungo Ciao Luigi Cosa ne pensi La merda No ma questo è De Questo puoi decorare No 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 Ok si Bello no niente Grazie Non ci interessa Queste cose La categoria è ancora Mario kart Vabbè Vabbè Mario per Mario Dai Scusa non c'era niente Ah ok Ah dobbiamo prima Sbloccare tutti i minigiochi Per fare questo E c'è l'unico C'è quello della frutta Però non so quanto dura No è qui E questa era Che cos'era qua Ah possiamo fare Che cosa Possiamo fare Siamo fare Mini baseball Dai facciamo Mini baseball Quelli singoli Vai No no Vabbè dai divertente Questo è uno contro uno Questo pure Tu e fa le banane No no Ce n'è uno in quattro Quattro E ma cop Magico Scusa ma non si può fare Quello lì Che dura poco E dura 40 minuti Quello lì Tra i tre Quello dei dati E quello corto però Sono ai orari Quelli che ti dice Quanto durano i dati C'è qualcosa Puoi fare meno round E però se ti fa scegliere Quelli Vediamo se non abbiamo fatto Alcuno Fatto 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 Questo Ah ti è fatto 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 Solo tra questi Guarda che puoi fare Quello dei dati Che bisogna sbloccare Quello dei dati Con meno round Lo puoi fare Per farlo No si può fare Quello dei dati Se si possono fare Meno Fai il labirinto A 5 razze Puoi fare Meno Non mi puoi Non far tornare indietro Maledetto Però Sono incastrato E beh scegli Dai scegli Poi togli Aspetta Sì dai dati Con meno round No No Hai capito Ma è veramente Una trappola Per orsi Sta cosa Dai ma che è No niente coppa Arianna odia Livio Ma non è vero Sì tu che non lo puoi fare Vai 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 No io sono nemici Cazzo se la gente Torna Esatto Bravo Quello della frutta Quello della frutta Quello dei banani Vai vai Tutto a sinistra Eccolo lì Esatto Quello delle banane Vai Gioco flying Sì No No Questo Vai no 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 Se no raga Troppo lungo Ragazzi è lunghissimo Ma gli altri pure Ma c'era il gioco delle banane Volevi fare No era questo Dicevo quello della frutta No c'era quello delle banane Il gioco delle banane E con due console Non lo puoi fare Troppo 10 Eh se no li facciamo un altro Ah ragazzi facciamo il baseball Vai Dai facciamo il baseball Maggi Dai facciamo il baseball Dov'era il baseball Dentro Da Da No Forse sì Non lo so Non lo so La Vai Il baseball Sì Oh mazzo Ci ascoltano Che cazzo è Posiziono lo schermo Dove tutti possono vederlo Vabbè sì Perché di solito Invece gli altri Li fai senza guardarossi Sì sì Gli altri Quanti inning vogliamo giocare 6 9 e un botto Vai Ma dammi le regole No che gioco Che gioco Non lo so Aspetta aspetta Tanto devi fare Francesco No sei tu quello che ti tira la palla Eh sì Ma è Francesco che Ma io perché sto da questo lato E non da lato Ma come faccio io Che cazzo No È impossibile Cazzo Devi sbloccare i laghi Della percezione Oggi Ok C'è un tempo Di reazione Deve sbloccare i laghi Bravo bravo Quasi Ragazzi Sono veramente Invincibile Eh Eh mo Si divertivo Dici Come si fa Con questo Maggi te da dietro Ok Te da dietro Hai capito No Devi In caso lui la prende La colpisce Tu devi riuscire a Chiappare la pallina Ok ok Tosta vera Bravo Maggi Cazzo No Questa era La palla lenta Già capito Come Ti può dare Cosa a culo Oh Valida Valida Attenzione Attenzione La colpisce Ma io non ho capito Come si fa La finta Di Cioè tu devi schiacciare Qualcos'altro O soltanto Non lo so Io prendo un po' a caso In realtà Cioè Sono bravo Nelle reazioni Questa L'avevo L'avevo Percepita Ma c'è tutto Nelle mani di Arianna Ma perché stiamo a zero Abbiamo fatto un fuori No è il contrario Nel baseball Chi attacca Che tira la palla Che fa i punti Non chi lancia Cioè chi attacca Chi tira la mazzata In quel senso Eh no Infatti loro Eh no Loro non Però devi fare Tutti quanti Devi fare Le basi Cioè quel tizio Tod Deve fare Tutto il giro Deve fare Uno Due Tre Se tu la mandi Fuoricampo E' un punto automatico E non ha fatto Un fuoricampo No Era un Tiro Ok Arianna È stata Ok Ma finirà Zero a zero Questa battita Mi fa una pippa Luke Skywalker Eh sì 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 Tu non sai Cosa è successo La chat Lo sa Cosa è successo Clippate Aiuto Maria E questo Questo è fondamentale Questo è fondamentale 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 Ma che si fa Bella comunque si dà una ricca d'emozioni dai regà yes è andata bene è andata bene lì è merda e poi è andata a sinistra a destra si sono proprio lento no e se non se non lasci completamente però è difficile cioè ti devi un po' abituare non fate stare fermo bu per favore un teppista non mi piace questo gioco no ma sono io proprio lento in realtà vabbè ma non è che te sei lento è semplicemente proprio il gioco che non lo so 3 2 una bella tecnica sono tipo le girelle a bigliardino queste possiamo finirla facciamo 3 e nessuno farà 4 facciamo 3 inning facciamo 3 inning 3 2 1 0 bravo bravo si sta abituando guando giusto E si è un po' una guerra psicologica Si la puoi fare No 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 Nel baseball alcuni fanno la parla corta Mettono la mazza già direttamente così Prova a vedere se mai Lo sta predictando Attenzione Sì è un po' meglio un po' del cazzo No ma è troppo difficile Quasi quanto Claudio che ti spiega il costume di chi sa Che tensione Lidia Mi hanno allentato un po' Grazie soul Bella soul 392 si è iscritto con il trial Strike 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 Partitore eliminato Cambio Arianna l'ha battuta Eh La smettiamo Secondo me possiamo fare il pareggio Pareggio È andata così Un onesto pareggio Un onesto pareggio Vi prego basta Sala teggiola Basta dai Vabbè è un ultimo Non le puoi fare un ultimo Che vuoi fare No vabbè questo Vabbè questo Vabbè che non ha giocato Che c'era Come lo hai giocato Avevo su questo Questo è uno contro uno No non preoccupi Poi se no E questo hai tutti insieme E questo servono due console Vabbè si può fare quello uno contro uno Scegliamole Io contro Livio Vai fate voi due O voi due dai Io non No E tu hai mamma mia Che piscialletto Dai piscialletto Vabbè giochiamo Scusate Come facciamo capire Come facciamo capire Come facciamo capire Seleziona il tabellone Chi è Luigi Che devo fare No si ma che devo fare Che ne so io Mi toccherà sparare 3 2 1 Ah vi dovete colpire Penso Vi dovete sparare Come si gira No ma forse ho capito Non ho capito come E come spara Ma come facciamo A rincontrarci Forse passa attraverso i muri Prova a far sparare su un muro Eh vedi Ah vedi 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 lo sfondo Ma io non ho capito come si muove Ma ecco io Cioè si muove strano È come si è muovesse al contrario Oh Dai piscialletto Dai Madonna che tristezza Sta partita Mamma mia ma che tristezza Ho capito Ma devi che non guarda La risetteria di primi Fallo te No no Livio contro Arianna Prego È il campione del mondo Di carriere Ma io non lo so Non lo so Gioca di nuovo Ti avvio questo Gioca di nuovo Tu chi sei? Luigi Quasi li vorrebbe Però hai visto l'ultimo Gli ho sparato Gli ho preso il colpo suo Prattica quella Arianna Non vorrei dire forse Un colpo Che sei schiuppato È perché Devi capire come si muove Che non è scontato No Arianna Scappa Scappa Arianna Scappa Spara Arianna Spara Madonna come carica Mamma mia che carica signori Carica carica Gira e carica Un culo Telo Arianna No dai che non è invisibile Mamma mia Mamma mia Ah Arianna Sotto sotto Arianna sotto Non si che va davanti È bene Non si capisce un cazzo Spara 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 Sto coglione Eh no Perché Pareggio Sì Beh Questo è stato Molto più emozionante Bravi Si è avviati i primi Tutti e due Ma ha battuti due Non ha battuti zero Come fa contro lì scusa l'hanno mi fa contro il campione il mondo come che si spara siamo arrivati la fuga del maestro e girati ma come si girerà scusa gira gira sparagli ma dove vai perché vai dall'altra parte che avessi capito come si fa spara spara magi spara spara sei immortale per diana da appena capisco come si gira ma perché gira al contrario il campione del mondo voglio vedere il campione del mondo il campione del mondo fammi vedere il tutorial va gioca non capisco come si gira vai fammi vedere un attimo il tutorial ecco il campione del mondo i carabatini maledetto bastardo maggi è confuso perché non mi fa fare una prova non puoi fare una prova lo puoi fare mentre vai adesso vedi adesso se fai sinistra destra stai girando stai girando in senso orario o un teorario se invece fai avanti e indietro vai avanti e indietro hai capito? che fine strateghi purtroppo non c'è il fuoco amico maggi è uno sbarramento di fuoco lì non puoi passare dove vai in merda? ah sbagliato sbagliato lato ma che cazzo ma vai l'incontro ma non c'è un mortale adesso vedi ha capito non ti spara quando sei immortale ragazzi campione del mondo prego l'ho sbagliato perché ho giato al contrario sono imbattibile adesso tu sei valuigi che sono Yoshi Yoshi e valuigi adesso che cazzo è questa Luigi 3 2 1 si esatto fulgi ma io voglio vedere il campione del mondo no ma adesso ho capito come gira eh guarda proprio adesso no 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 vabbè vabbè l'ultima ho capito come girava no no brava Ariadda eravamo troppo forti noi due no 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 è l'angolino giusto strategico no 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 dall'altra parte Brava, hai capito Brava, brava, brava Spara, 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 spara Spara intanto Se non spari non colpirai mai Spara Ma perché non spari La se avessi sparato L'avresti ammazzato Va bene, regà Direi che abbiamo dato abbastanza spettacolo Per oggi Bellissimo Anche vederti prossimo No ma devi camminarti con la meccanica Di come ruotava Vabbè 8-0 in casa ma fuori casa Poi possiamo recuperare Con karma, con karma Capisci la meccanica del gioco Ti aspetto Certo avrebbero potuto fare una cosa diversa Della serie che ti muovi così No invece secondo me è fatto bene perché è difficile Esatto Quindi se fosse stato normale Beh no diventava tutto strategico Di gioco di angoli così Va bene ragazzi Noi ci vediamo lunedì Festeggiamo il mio compleanno Sperando che non c'era un'altra catastrofe nucleare Che non si sa mai Chi è il prossimo che muore Maggi? Ci sta Togashi Che sta a Porello Vabbè però vale poco Come vale poco? Perché vale poco Togashi? Vabbè ho capito È quotato poco Vabbè Punti sul campione Quota alta Al fantamorti Ci metti un mille euro Se no ci sta Iginio Massari Ti ha messo proprio una croce su Iginio John Williams Che ne so Clint Eastwood Per me uno Uno papabile è Biden No e mo si ricandita pure Non lo so Eh lo tengono in vita a Biden No che secondo me è proprio ipercontrollato giornalmente Al punto di vista medico Sei ipercontrollato quanto te pare Ma alla fine morono pure i paesi No è vero Che Carlo Carlo c'ha il tumore C'ha un tumore a cosa Carlo? Non mi ricordo che ha c'ha un tumore Dipende a che stadio Eh non sta benissimo Carlo Se c'ha il tumore non lo faccio O che era una battuta Clint Eastwood c'ha 93 anni Per chi so Sì è vero La cucina La cucina Comunque ragazzi Settimana prossima ci sarà anche il karaoke Finalmente Vi dico questo piccolo aneddoto Volevo giocare anch'io Livio mi ha detto No tu non puoi giocare Perché tu sei troppo forte Ti dico che Ieri sera mi ero messo un attimo A vedere quali canzoni Potessi fare il karaoke Ho detto Domani farò veramente Una figura di merda Vabbè ma perché Niente che sa cantare Invece No ma anche di canzoni Che dici Vabbè ma questa la so benissimo Se ti mette solo la base Dici oddio ma la base è sempre uguale No vabbè Poi la metti sotto col testo Eh no certo certo Però Ma poi c'è sempre un minimo di ritardo Tra la registrazione Il video e la voce Quello che mi diceva Delmo Eh leggero bisogna sistemarlo su OBS C'è un leggero ritardo Sì ma è una cosa complicata Quello ho capito Quindi chi se ne frega Vabbè Vabbè Giudici insieme a voi Avrete i tre voti Che decideranno i vincitori Esatto esatto Va bene ragazzi Buon weekend Fate i bravi Non vi ubriacate Come al solito E Il campione del mondo Ha parlato Sì Prego Hacuccia 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 Hacuccia